Venite in Tunisia, venite a vedere i mercati, le spiagge e mangiare il cibo tipico. Bellissima Tunisia, bellissima. Venite, venite. Venite anche a provare le terrazze e i rooftop. Sono carini. Venite a Succa e la Medina, se ti piace il mercato, se ti piace il mercato. Per noi, siamo europei, venite dall'Italia. Abbiamo visto tutti gli bambini arabici, sono molto diversi da il nostro paese, quindi ogni parte della città ha un punto interessante per noi. Non so, le porte, il bambino blu e bambino. Grazie a tutti. Venite qui per ammettere il lato, che è bello e bello. È bello, bello. E vado anche sul piede, per provare un po' di spiaggia, e per ammettere i sti storici in attrazione. Buongiorno a tutti in Tunisia, buono di te conoscere! Buono, buono di te conoscere! Mi sono Roberto, vengo da Sicilia, Italia, ma in realtà viviamo in Milano. Abbiamo arrivato qui per spendere 5 giorni. Sono Milenia, buono! Buono di te conoscere! Abbiamo davvero piaciuto il nostro tempo, è molto bello. Mi piace la porta, è un mio preferito. E la mosca? Sì, è molto bello. Ora siamo arrivati a Cartagena, domani. E ci siamo entusiati, perché abbiamo piaciuto molto il nostro stare qui. Qui ci sono? Mi piacerebbe anche provare il nostro paese, come Sidi Bosa. Sidi Bosa? Sì, sì. La Marsa? La Marsa! Sì, sì. Sì, ho visto anche che ci sono alcuni bellissimi paesi, ma ci sono vicini. Ma ci sono vicini. Ci sono vicini, come un colosseo antico. Ma ci sono vicini da qui. Ci sono due ore da qui. Quindi non abbiamo la possibilità di visitare ora. Ma magari nel futuro. Nel futuro? Sì, sì, ovviamente. E quindi, ci siamo arrivati a vedere. Ci siamo arrivati al Succo. Ah, il Succo. Il Succo e la Medina. La Medina? Sì, sì. Andate qui. E' un super bello. Il mercato, se ti piace il mercato, andate qui. Andate a Medina? Sì. Ok. Che cosa ti? Sì, ho davvero piaciuto andare in Succo. Ci sono molte storiche, molte terrasse dentro del boutique. Sì, voglio parlare. No. Le terrasse sono super bello, ma sono un po' in grado. Devi sapere, vai alla città e poi trovi le terrasse. E tu? Per me. Sì, hai saputo qualche informazione prima di Tunisia? Eh, in realtà... No, prima di venire in Tunisia. Eh, in realtà, devo essere sincero, abbiamo solo setto la volata e poi abbiamo visto l'interesse di visita. Solo qualche foto nell'internet? Sì, sì, solo qualche foto nell'internet. Ma non ho mai saputo la maggior parte delle cose che ho visto durante la visita. Ok. Ma in realtà, Tunisia? Sì, è bellissimo. È super bello. È super bello. È super bello. 100%. Come. 100%? Che cosa è speciale in Tunisia? Sì? Sì, per noi siamo europei. Come andiamo da Italia, quindi abbiamo visto tutte le bambini arabi. È molto diverso da il nostro paese. Quindi ogni parte della città ha un punto interessante per noi. come si è vero, le bambini blu e bambini. È super bello? Sì, da un punto di vista di architettica è molto diverso da la maggior parte dell'Europa. In realtà, siamo da Sicilia, quindi abbiamo alcuni bambini arabici, ma in resta dell'Europa, magari solo in Spagna, ma nel nord dell'Italia, dove viviamo, è completamente diverso da l'architettura. Abbiamo Venetia e Tunisia in Bizerte, non lo sai? Non lo sai. Non lo sai, non lo sai. È simile con la Venetia e il tuo paese? Alla fine, non abbiamo trovato nulla. Stavo cercando e cercando di organizzare, ma... Sì, sì. Non lo sai anche se questo paese è vicino da qui, perché noi solo vediamo paese che sono vicino. Come la piazza, il paese... Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Intentiamo provare a visitare questo paese, simile a Venetia in Italia. Noi abbiamo in Tunisia molti paese molto, come in Bizerte, nel nord, nel sud. Il problema è che non abbiamo l'auto, quindi per il transporte stiamo un po' struggling, perchè in Google Maps non potremmo trovare. Quindi hai un problema di tempo, questo è tutto. Cosa? Problema di tempo? Sì, sì. Quali giorni? Abbiamo solo 5 giorni, quindi non abbiamo abbastanza tempo per visitare tutto il mondo. Vedo che ci sono alcune tripi nel deserto, dove puoi spendere la notte nel deserto, ma in realtà ho chiesto due giorni, quindi non abbiamo il tempo per visitare. La prossima volta? Sì, possiamo vedere la prossima volta in Cinesia? Sì, sicuramente, sicuramente. Cosa c'è la città? Cosa c'è la gente? La gente è buona, super buona. Come in Sicilia, siamo vicini, vediamo la stessa vibrazione. Sì, per la città, abbiamo provato solo birch, 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 birch. Sì, sì. Sì, abbiamo provato birch e ora proviamo i miei tradizionali al restaurant. Ok, in Medina o in un altro paese? In Medina, in Medina. Sì, è buono. Hai un po' famosi nomi prima in Tunisia? Città? Città, persone, come ti piace. C'è la città? 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 C'è la città in Sicilia. Sì, è la stessa o è la stessa? Non lo so, perché non proviamo ancora. Sì, lo scopriamo oggi. Sì, lo scopriamo oggi. C'è la città? C'è la città? Sì, sì, sicuramente. In Italia. In Italia. In Italia. Sì, in Italia. Ok ragazzi, venite in Tunisia, venite a vedere i mercati, le spiagge e mangiare il cibo tipico. L'importante è bellissima. Bellissima Tunisia, bellissima. Venite, venite. Venite anche a provare le terrazze e i rooftop. Sono carini. Come here, you will get lost in the beautiful building and the historical place and the mosque that are, you know, something very different and you should go, you should visit. Come here to also enjoy the weather that is nice and beautiful. Yeah, it's a very good, nice weather. And go also to the beach side in order to swim a little bit and enjoy the historical buildings around the city. Ok. What about security? Do you feel security here in Tunisia? Honestly, first night we get lost in the small street in Medina. No, we didn't have bad experience at all, but it was a bit dark, so we get a bit scared. I mean... That's it. But... No, 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 no problem at all. No problem at all. No problem at all. No problem at all. Come, come to Tunisia. Together. Come to Tunisia, guys. Tunisia is good. Tunisia is really good. Tunisia is really good. And Medina is super nice. And you can die. We're going to the Soque, Soque around the city. Ah, the Soque, the Soque. To Medina. Yes, yes, yes. Go there, super nice, market. If you like market. Go to Medina, yeah. Grazie a tutti.